Sono state scaricate qui al centro trasfusionale dell'ospedale San Timotio le 975 dosi di vaccino anti-covid. L'ospedale Termolese è uno dei centri per lo stoccaggio per garantire la conservazione a meno 75 gradi come aveva spiegato il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano nei giorni scorsi. I vaccini saranno conservati nelle celle frigorifere piantonate da una guardia H24. Saranno poi prelevati ed utilizzati garantendo la conservazione della catena del freddo per la somministrazione meno 2, meno 8 gradi. Per la somministrazione appunto si procederà con medici, infermieri, operatori sanitari e ospiti e operatori delle residenze per anziani. Come vedete dalle immagini l'area è presidiata dalla polizia, la stessa polizia che ha fatto da staffetta per il corriere che è arrivato qui con gli scatoli di vaccino. Nel piano regionale per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra ospedaliera è prevista l'attivazione dei punti vaccinali territoriali con caratteristiche organizzative analoga ai punti vaccinali ospedalieri individuati presso le case della salute di Larino e Venafro. Con l'aumento delle dosi si sottoporranno a vaccinazione le altre categorie di popolazioni fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, anzitutto gli insegnanti del personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carcere e dei luoghi di comunità con l'obiettivo di garantire il vaccino al 90% della popolazione entro il 2021.